Un approfondimento medico per stabilire se ci fosse capacità di intendere e di volere al momento del fatto. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Napoli hanno disposto una perizia psichiatrica su Adalgisa Gamba, la 41enne di Torre del Greco, accusata di aver soffocato il figlioletto Francisco di appena due anni e mezzo perché temeva fosse autistico, per poi lanciarsi nel mare gelido con lui nei pressi di un lido balneare. La tragedia avvenne la sera del 2 gennaio 2022. Inizialmente si pensò ad un annegamento, ma dall'autopsia è emerso che il bimbo era già morto quando fu portato a mare. La donna, nei giorni precedenti alla morte del bimbo rispondendo a dei messaggi, guardando una sua foto, avrebbe detto «Quanto è brutto! E poi, Cicci non vuole dormire, secondo me vuole il ciuccio. O vogliamo farlo schiattare così si toglie il vizio?» E ancora la sera prima. «La situazione è terribile. C'è qualcosa che non va!» Perché il piccolo piangeva e non voleva addormentarsi. Tutte frasi che, secondo la difesa dell'imputata, vanno reinterpretate perché spesso sono presenti emoticon scherzose. Il cellulare fu recuperato dai sommozzatori in acqua il giorno dopo la morte del piccolo Francesco e, secondo la procura di Torre Annunziata, conterrebbe la premeditazione del delitto. Per tutta la notte, in vista di una visita medica in programma il lunedì dal pediatra, la donna avrebbe cercato con insistenza sintomi dell'autismo legati ai comportamenti del figlio. Ma non solo. Nel corso delle ultime 20 ore di vita del piccolo Francesco, nella barra della ricerca di Google, la madre avrebbe digitato frasi drammatiche come morte bimbo strangolato, buttare figlio in mare, bambino ucciso perché piangeva, ucciso con candeggina, uccide figlio disabile e aggressione con coltello pena, per capire quanto avrebbe rischiato in caso di omicidio.